Poi vecchi, poi vecchi Cioè, manco... Ah, non lo so gli attaccanti, non l'ho visto Ah, non lo so Oggi è il primo caldo, quindi chiaramente Non lo so, io, forse non so le caldo Per i 90 minuti, comunque non avete giocato Non lo so, calcolate Però il primo caldo ci sono, stavamo sempre tutti in ferro All'inizio dobbiamo fare qualche corso così in più Ci risparmiamo un po', ma non come ho detto Cioè, non è che non dobbiamo giocare di video Cioè, dobbiamo giocare L'unica cosa, che uno invece di farsi delle sgolfate cose Nel libro di qualcuno Cioè, corsi nudi, di questo tipo qua Per il resto, vuol dire, queste qua hanno molte questioni L'abbiamo già incontrato Sì, in casa, pubblicato Stavamo leggendo nettamente E facevano farla anche gravi, nudo Queste cose qua Se noi scendiamo sul loro piano Penso che abbiamo tutto da perdere Sì, subito Se noi scendiamo sul loro stesso piano Penso che abbiamo tutto da perdere Cerchiamo di stare tranquilli Va bene? Non rispondiamo alle provocazioni Va bene? A posto? Grazie 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 Grazie